Salve gente! Allora, Correa in partenza per Milano. Si è trovato un accordo, un accordo che probabilmente non è che piace tantissimo all'Otito, ma qui c'è una novità, nel senso l'Otito ha ceduto pur di smuovere la situazione. Penso che questo anche andrà a influire un po' su quello che è il rapporto contare, perché ancora una volta ha dovuto rimetterci qualche denaro perché si è arrivati all'ultimo proprio del mercato, dove l'Otito tante volte è forte nel giocare negli ultimi giorni, in questo caso invece ci ha rimesso. Ma comunque andiamo a parlare non solo di Correa, ma anche di altri giocatori della Lazio. Prima però tu che stai vedendo questo video, se ancora l'avessi fatto ti invito a iscriverti al canale, non costa nulla, basta iscriversi andando sul tastino iscriviti, cliccando anche però sulla campanellina per rimanere aggiornando su tutti i contenuti, in che modo andando su tutte le notifiche, e poi ragazzi il like è gradito se viene lasciato prima di abbandonare il video, o altrimenti vi ringrazio ugualmente se vi sarete iscritti e avrete cliccato sulla campanellina. Allora ragazzi, Correa, 30 milioni più 1 si parla, quindi diciamo che un pochettino è salito l'Inter che era ferma a 28 più 2, sempre sui 30 milioni, ha ceduto a 30 più 1, quel milione in più sarebbe per eventuale piazzamento in Champions, cosa che probabilmente avverrà, quindi diciamo 31 milioni. L'Otito era partito da 40, vi ho detto che l'Inter 40 non l'avrebbe matato, che non sarebbe manco arrivato a 35, che avrebbe faticato ad avvicinarsi a 35. Lì ci sarebbe potuta essere la rottura, invece c'è stata diciamo di fronte a un Correa che voleva solo l'Inter, Lazio ha dovuto cedere, l'Otito ha dovuto cedere, ripeto, cedere perché? Perché si è arrivati alla fine del mercato con un Sarri che anche in conferenza pre-Empoli aveva fatto capire che Correa ormai era un giocatore che non ci stava più con la testa dentro la Lazio e che voleva cambiare aria e lui un giocatore del genere non poteva utilizzarlo. Quindi diciamo, forse Sarri avrà detto ragazzi, io con questo avere un insoddisfatto non è il caso e quindi l'Otito ha dovuto cedere questa volta, mantenendo insomma quello che era di non scendere sotto a questi 30 milioni, ma ripeto, a me mi hanno detto chiaramente che l'Otito puntava molto di più sui 35, 34-35, anche con un 30-32 più qualche bonus. Qui si parla proprio di aver ceduto. Nel nostro caso ragazzi, come tifosi, io penso che è la cosa migliore perché Correa, a parte che è un ottimo giocatore ma molto incostante, soprattutto negli ultimi periodi è stato molto incostante e poi comunque un insoddisfatto in casa non conviene averlo. Vediamo invece di avere una soluzione che dovrebbe essere Kamenovic, vediamo se sarà Kamenovic perché si è parlato di Boga, magari, a me piace molto, scadenza 2022, sembra che il ragazzo non voglia rinnovare, quindi diciamo i prezzi enormi, 35 milioni che vuole il Sassuolo, probabilmente non... Anche perché se Correa l'hai data a 20, perché Boga deve costare 35, Correa ha anche vinto la Coppa America, ma poi di fronte a una scadenza di contratto, inevitabilmente, se non sei sicuro di rinnovare con il ragazzo, devi abbassare. Penso che Boga, col fatto che voglia cambiare aria, sa che se non rinnova, s'altranno molte big, si fionderanno su di lui, quindi è una situazione che la Lazio potrebbe sfruttare. Come potrebbe sfruttare, stamattina il nome nuovo è quello di Zaccagni, anche lui scadenza 2022. Lui forse è un po' più propenso a rinnovare con il Verona, visto che comunque è il capitano, magari un pochetto anche per orgoglio e per passione verso questa squadra che l'ha portato alla ribalta, forse un rinnovo lo farebbe anche. Però certo, sta con le antenne dritte per captare eventualmente offerte, e anche qui la Lazio potrebbe inserirsi. Kostic però rimane il nome principale, perché comunque Kamenovic è parcheggiato, questo fa pensare che alla fine Kostic sia il nome sul quale la Lazio adesso proverà a fare un affondo. Però sembrerebbe che le alternative ci siano. Basta così? No ragazzi, basta così? No, perché sappiamo tutti che il difensore centrale manca. Molti hanno detto, sì ma se non viene Kostic e viene per esempio un Zaccagni, a quel punto Kamenovic verrà iscritto. Questo è vero perché Tare ha preso un impegno col procuratore di Kamenovic, che è lo stesso di Milinkovic e di Marusic, e non vuole fare questo torto. Però il torto poi lo fa a Sarri, perché se Sarri quest'estate ha bocciato Kamenovic sia come terzino che come difensore centrale, onestamente, anzi molti hanno detto che Kamenovic come difensore centrale è il nuovo Vavro, a quel punto che facciamo? Mettiamo Vavro fuori rosa per avere il nuovo Vavro? Non lo so. Una situazione antipatica come al solito, spero che lì arrivi qualcosa, anche perché abbiamo anche il problema portiere che non so se verrà risolto, ovvero uno Stracoscia, ancora una volta insoddisfatto, che non rinnoverà, che perderemo a zero, e non Oreina che fa il titolare, ma sappiamo che la vista dopo i 35-36 anni cala, i riflessi dopo i 35-36 anni calano, le contusioni che prendi ci mettono tanto a riprendersi quando c'è una certa età. Insomma, un portiere che va bene come secondo, ma non può essere il nostro primo portiere. Fece il nome di Carnesecchi dell'Atalanta, un portiere che l'Atalanta insomma ci tiene eventualmente a tenere nel proprio organico, però magari di fronte alla giusta offerta, perché no? Secondo me ci si potrebbe provare. E basta ragazzi, questa è la situazione, in questo momento un po' movimentata del mercato, vediamo quello che succederà adesso che una pedina è stata mossa, e vediamo quali saranno le altre contromosse. Basic, Basic sta facendo le visite mediche, anzi se ho letto mi sembra 10 minuti fa che le ha terminate, quindi vediamo gli esiti, non ci sono fino adesso notizie negative, quindi suppongo che stia andando tutto liscio, quindi Basic probabilmente già ad oggi pomeriggio potrebbe arrivare la firma, ed essere ufficializzato come giocatore della Lazio. Spero che sia così. Giocatore, abbiamo detto, utilissimo, in tutta la fase del centrocampo, mediano-centrale, anche alla sinistra, ma secondo me, se proprio dovesse, visto la sua statura, se dovesse venire magari per una giornata a mancare Milinkovic, anche un vice Milinkovic secondo me lo può fare. E questo, insomma, mi fa tirare su un sospiro di sollievo, visto che io, personalmente, gente che dice che Hack Pack Pro ha fatto un buon precampionato, mi dovete dire che cacchio di partita avete visto. Ha perso tutti i palloni che si potrebbero perdere, il ragazzo corre, si impegna, ma secondo me non è all'altezza per gli obiettivi Lazio, tutto qui. Ci può stare una rosa? Ci può stare, come aiuto ci può stare, ma non è lui che può essere l'alternativa a Luis Alberto e a Milinkovic. Però, ragazzi, altre uscite ci servono. Allora, asse Lazio-Genova sembrava un'asse calda, nel senso che Caseto sembrava molto vicino, in realtà sembra che Caseto ci stia ripensando. Io sarei molto contento se rimanesse la Lazio, però, o se andasse da un'altra parte portando magari qualche soldo in più. Resta il fatto che in questo momento sia un po' raffreddata questa pista su Caseto. Invece sembra molto più calda quella di Fares, Fares che ha capito che nella Lazio non avrà spazio, deve comunque rilanciarsi come giocatore, quindi probabilmente ci sarà un prestito con diritto di riscatto verso il Genoa. E vediamo, vediamo. Magari trova la situazione ideale e Fares riuscirà a tornare quello che era nella spalla. Speriamo. E basta, per il momento non ci sono altre novità, ragazzi, non ci sono, almeno fino adesso, che sono quasi le 11, non ci sono grandi novità. Vedremo però quali saranno, perché sicuramente ci saranno queste mosse nelle prossime ore, fatemi capire nei commenti voi, secondo voi, se effettivamente è Kostic, sicuramente è l'affondo che farà Lazio, ma l'alternative, Boga, ripeto, pista difficile perché il Sassuolo è difficile, ma questo Zaccagnico è uscito questa mattina, come lo vedreste? Oppure alternative, nomi, Brandt anche sembrerebbe, se è fatta l'intervista su Brandt, che l'allenatore l'avrebbe voluto tenere perché gli voleva dare maggior spazio, ma sembra che fino adesso faccia panchina fissa, quindi magari è una situazione anche da rivedere. Insomma, fatemi sapere la vostra e soprattutto fatemi sapere cosa manca, secondo voi, alla Lazio. Se è più il portiere, più il difensore, ragazzi, non credo che verrà tutto, eh. Se è un terzino sinistro, fatemi sapere la vostra, ragazzi. Nei commenti, scrivete, 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 e soprattutto iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. Cliccate sulla campanellina e adesso lasciate un like prima di abbandonare il video. Vi ringrazio, orive dolci con un prossimo video.